Forza ragazzi, se c'è qualcosa che volete portare via, questa è l'ultima occasione, eh! Che qui ora arriva l'antiquario e svuota tutto! Non ricominciamo, eravamo tutti d'accordo a Peter! Io no! 5.000 goma! Bella roba! Col padre è il fin de vita? Se sono venduti la casa di famiglia! Quando? Nostro padre ha un miracolo vivente! E mo chi glielo dice che abbiamo venduto casa? E vabbè, glielo dicevamo tutti insieme! Sì, passiamo al corretto! Parliamo col bavoso e chiediamogli se ci lascia a casa qualche mese in più! Alex, finisce male! Finisce proprio male! Segui, poltroni, quadri... Luigi 16... Non c'è neanche il busto di Beethoven! E vedrai che il problema sarà proprio il busto di Beethoven! Vabbè, lo sistemiamo! Lo sistemiamo! Esco domani! Ragazzi, non vi dovete preoccupare! Io sto bene! Qui c'era la tua bifera! Da quale? Posso sapere che state facendo? Reabilitazione tra la cervicale e la mano santa! Tutto bene, papà! Vogliamo andare a letto? No, no, lo sto bene! No, no! Beethoven, papà! Ta-ta-ta-ta! Un saluto alla Scuola Santa Maria! Che cosa diresti tu ad un ragazzo che adesso sogna il grande schermo? Studiate, studiate seriamente, profondamente, studiate, 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 studiate! Ecco, questo è il tuo primo film, come è stato l'impatto, come è stato l'esame con il pubblico? Dici come regista? Sì! Beh, è stato bello, perché il film, diciamo che grosso modo è piaciuto, direi anche non grosso modo, il film è sostanzialmente piaciuto, ha avuto dei buoni riscontri. Io sono tranquillo, perché sono, diciamo così, sono onesto sostanzialmente con quello che ho fatto, so quello che ho fatto, grosso modo, per ora mi basta questo, ha fatto, secondo me, un buon inizio nella cosa, e so che dovrebbero dirlo gli altri, però lo dico molto semplicemente, visto che non a scuola, lo dico... Anche dopo una serata come questa, ecco, hai inaugurato il Festival delle Cerase, che emozione ti ha dato e che giudizio dai ad una serata come questa? Sono emozionatissimo, perché questo festival per me rappresenta davvero, perché è nato in un paese vicino al mio, quindi io ci andavo da ragazzino, da adolescente, ci andavo, e andavo a vedere i film, e ci ho incontrato a scuola, ci ho incontrato personaggi, che mai avrei pensato che poi avrei rincontrato nel mio percorso artistico, il mio primo film al cinema, l'ho fatto con scuola, quindi tornare qua con il mio primo film è stata una grandissima emozione, è stata con Silvio, lo ringrazio, perché è stato, ringrazio tutti voi, insomma, tutti quelli del festival, perché mi ha dato la possibilità di stare da quest'altra parte, mi nascondevo nelle poltrone, e guardavo questi grandi personaggi che arrivavano e raccontavano i loro film, e stasera qua c'ero io, una bella sala, una straordinaria sala piena, insomma, sono contento. L'Istituto Santa Maria, ciao! Studiate, studiate!